Ben trovati cari amici Globus Television d'Antonella Guglielmino, ecco le notizie di Globus, iniziamo subito con la prima. La paura è normale che ci sia in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio, non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura se no diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti. Sono le parole di Paolo Borsellino, la sua storia quella di un eroe civile capace di rimanere al suo posto sapendo di essere condannata a morte, mantenendo nel contempo la sua profonda umanità viene raccontata nella docufiction Paolo Borsellino Adesso tocca a me, in onda oggi in occasione del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Cesare Bocci presta il volto al magistrato ucciso insieme cinque agenti della scorta, ricordiamoli Claudio Traina, Agostino Catalano, Walter Cosina, Emanuela Loi e Vincenzo Limuli. Il 19 luglio 1992. Il film è un mix di fiction con la ricostruzione della vita del magistrato e di testimonianze di interviste e di filmati dell'epoca. Parliamo di musica. Legacy Recordings, divisione di Sony Music Entartment, annuncia l'uscita di Power of Peace venerdì 28 luglio, nuovo studio album dei Sant'Anne e degli Isles Brothers, un disco in famiglia. Registrato l'anno scorso, Power of Peace rappresenta il coronamento di un sogno, una nuova collaborazione musicale con cui Sant'Anne e gli Isles esplorano quell'intramontabile musica soul, funk, blues, rock, jazz e pop che continua a ispirarli. Dopo una breve collaborazione nel Sant'Anne IV LP dello scorso anno, Sant'Anne e gli Isles Brothers ritornano insieme sul palco quest'estate. A proposito di Power of Peace, Carlos Sant'Anne ha detto, provo un enorme senso di gratitudine e riconoscenza. Lo spirito creativo ha bussato alla porta e si è presentato come un'opportunità preziosa di fare qualcosa con e per un musicista eccezionale che considero il miglior del mondo. Ronnie Isles, mio fratello spirituale, è al centro dell'armonia dell'unità universale nel panorama radiofonico mondiale del 1962 con Twist and Shout, brano con cui i Beatles scelsero di invadere l'America. Come Michael Jackson, John Lennon e Bob Marley è un vero e proprio peso massimo. Io e Cindy siamo molto fortunati a offrirgli questo dono, da Dio per mezzo di noi, a voi per il mondo. Mr. Ronnie Hale. Sarà presentato a Catania domenica 23 luglio al Monumento dei Caduti in piazza Tricolore il romanzo La cattiveria del silenzio di Raimondo Raimondi, edizione Il Foglio, con la prefazione dello scrittore catanese Davide Crimi con un tributo rock a Franco Battiato. Altro argomento all'Eden Grand Hotel San Pietro di Taormina, ospita Taofood and Wine. Oggi mercoledì 19, nell'ambito del calendario di Taomoda 2017, insieme con la Fondazione italiana Sommelier, che diplomerà il nuovo ambasciatore dell'olio, con la consegna degli attestati, tiene a battesimo una nuova figura, quella del sommelier dell'olio, extravergine di oliva. Quella cioè di un profondo conoscitore delle origini e della pianta, che sa individuare anche i sistemi di produzione tradizionali e moderni, ed è informato sulla legislazione DOP, IGP o biologico. Il corso per Sommelier dell'olio, organizzato quest'anno dalla Fondazione in collaborazione con l'Aiso, rappresenta l'edizione Zero e ha riscosso un grandissimo consenso tra gli iscritti, tra appassionati e addetti lavori. Un'iniziativa speciale che ha come ospite d'onore la giornalista Rosanna Lambertucci, da anni impegnata nella divulgazione della cultura e della sana alimentazione, che per l'occasione presenterà il suo libro La dieta per vivere cent'anni. Nel corso dell'evento la Fondazione organizzerà una tavola rotonda su uno degli alimenti considerati pilastri della dieta mediterranea, l'olio, extravergine di oliva. Parliamo di cinema, esce nelle sale, distribuito da Solaria Film, Movimento Film in collaborazione con lo scrittoio, dal 24 agosto, Sette Giorni, diretto da Rolando Colla. Ivan, interpretato da Bruno Todeschini e Chiara, l'attrice Alessia Barella, si incontrano su un'isoletta siciliana, Levanzo, per organizzare il matrimonio del fratello di lui, Richard, interpretato da Marc Barbè, con la migliore amica di lei, Francesca Linda Holaschi. Una forte attrazione li travolge fin dal primo incontro, ma per ragioni diverse entrambi tendono a ritirarsi. Ivan, ancora ferito al fallimento del suo ultimo rapporto, è Chiara, sposata con Stefano, Gian Felice imparato. Non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio. Nonostante le resistenze iniziali, i due decidono di vivere la storia fino all'arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano però non hanno considerato l'amore. Questa era la nostra ultima notizia, grazie all'attenzione e alla prossima edizione.